Il Veneto chiede lo stato d'emergenza e maggiori poteri per gestire l'inquinamento da FAS. Dopo aver fissato i limiti più severi d'Europa, la giunta regionale mette in atto il secondo step. In realtà le richieste al governo sono partite il 19 di settembre, il giorno dopo che a Palazzo Balbi è arrivata la risposta dell'esecutivo che annunciava di non voler imporre limiti sui FAS. Un contropiede reso noto a poche ore dall'annuncio del governatore del Veneto, Luca Zaia, di essere pronto a emanare proprio quelle norme regionali sull'inquinamento dell'acqua, una presa di posizione che ha raccolto addirittura il consenso dei 5 Stelle. Ora il Veneto punta però al riconoscimento dello stato d'emergenza e ai poteri commissariali. Nella zona rossa ci sono 350.000 residenti esposti a rischi FAS. Jacopo Berti parla tuttavia di decisione arrivata tardi e rilancia bene la scelta di introdurre i limiti, ma ora non si perde altro tempo. Va chiusa immediatamente la linea di produzione dei FAS, perché questo inquinante va chiuso e risolto alla base. Quattro anni sono passati nell'immobilismo più totale e nella sottovalutazione del problema e nessuna conferenza stampa ridarà indietro quei quattro anni di vita ai cittadini e ai 350.000 Veneti coinvolti in quella zona. Stoppa le polemiche, il ministro Galletti impegnato in visita in provincia di Treviso. Bisogna fare in fretta, ha spiegato, e usare le risorse disponibili per mettere mano alla rete idrica. Se la regione fissa dei limiti esercita le sue competenze. Oltretutto so che c'è un referendum sull'autonomia, in questo caso è autonoma nel decidere i propri limiti. Per quanto riguarda il mio ministero, non voglio far polemiche. Dico che oggi le risorse ci sono.